Grazie a tutti. Riprendiamo le lezioni dopo la pausa natalista. Ringrazio ancora Pinuccia e soprattutto Piero per la ripresa delle lezioni e continuare a condividere con noi questo percorso formativo. Io crediamo anche come Transform che sia molto utile per riscoprire un po' il senso dell'attività politica legata a una visione complessa e complessiva. Quindi oggi sarà Pinuccia Montanelli. Credo che sicuramente do la parola prima a Piero per presentare un po' la giornata, la lezione quotidiana. Poi, mano a mano, se ci saranno dopo la lezione delle interventi, chiederei a tutti quanti di segnalare la volontà di intervenire. Vi prego durante la lezione di chiudere i microfoni in modo da non sovrapporre con la vostra voce chi sta intervenendo e quindi do subito la parola a Piero Mevilacqua per l'introduzione della serata. Prego. Grazie Roberto, buonasera a tutte e a tutti. Riprendiamo le lezioni dopo la pausa natalizia. Vi devo informare che la sostituzione del professor Cersosimo, Domenico Cersosimo, è avvenuta perché Cersosimo aveva un impegno all'università. Quindi, diciamo, io ho preferito non rimediare un ritardo, continuando con la sua lezione, per inserire Pinuccia Montanari, perché ci tenevo alla sua lezione, anche per, diciamo, rompere un po' una serie di interventi di carattere teorico e approdare ad un discorso più legato ad esperienze concrete e trasformative. Allora, poche parole ma essenziali per darvi un profilo di Pinuccia Montanari. Non è facile perché ha accumulato un tale, diciamo, curriculum di attività che devo, la scontenterò sicuramente perché ne ricorderò solo molte poche. Intanto ricordo che è stata, che è un personaggio multiforme, Pinuccia, è, diciamo, una studiosa, un'organizzatrice culturale, una grande esperta di amministrazione. Ha iniziato come direttrice della biblioteca universitaria di Reggio Emilia, che ha trasformato in un centro culturale di prima grandezza con tantissime attività. Poi è stato assessore all'ambiente, sempre di Reggio Emilia, tra il 2004 e il 2009. Ha fondato l'Ecoistituto dell'Emilio Romagna con Giorgio Celli, il grande e indimenticato etologo Giorgio Celli. Ha creato l'Osservatorio Ambiente e Salute, sempre, dell'Emilio Romagna e naturalmente, non naturalmente, ha creato anche l'Università Verde di Reggio Emilia. È stato poi assessore, è uscita anche dall'Emilio e naturalmente, dove ha svolto un ruolo, come è evidente, prezioso. È stato assessore ai parchi storici, alla decrescita e al benessere animale del comune di Genova. È stato membro dell'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti dal 2009 al 2012. È coordinatrice del Forum per la Democrazia Ecologica del Tribunale Internazionale dell'Ambiente. È stato assessore all'ambiente del comune di Roma tra il 2018 e il 2019, dove ha realizzato alcune cose, pur avendo presto abbandonato per dissidi, diciamo, con l'amministrazione. È stato docente presso l'Università di Modena e Reggio Emilia nell'ambito del corso Informational Literacy. Ha al suo attivo molte pubblicazioni. Io ne ricordo solo alcune. Una di queste è Il diritto degli alberi, bel titolo, del 2002. Poi il problema dei rifiuti in Campania del 2008. Gestire i rifiuti nei parchi nazionali del 2013. E poi tanti altri scritti con altri studiosi o da sola. Voi avete avuto l'opportunità di dare almeno uno sguardo allo scritto in PDF che lei ha mandato, che io vi ho girato, sulla figura di un grande protagonista dell'ecologismo italiano, cioè su Aleksandre Langer. Allora, voi conoscete il tema. Questa sera, ecco, Pinuccio ci parlerà dei problemi ambientali, dei problemi, dei rifiuti, dei problemi soprattutto da un punto di vista urbano, che è un aspetto molto trascurato dei problemi ambientali. Quando si tratta di ambiente pensiamo alla natura, diciamo, come l'Amazzonia, come le campagne, ma la città è un ecosistema, l'ecosistema dove vive la maggioranza della popolazione mondiale. Pinuccio, a te la parola. Bene. Innanzitutto, adesso provo, ecco, condivido lo schermo. Lo vedete? Sì. Si vede? Sì, perfetto. Perfetto. E si sente? E si sente. Bene. Beh, innanzitutto ringrazio assolutamente. Ha toccato tanti temi che mi sono cari. Ed effettivamente, diciamo che io mi sono sempre, ho sempre cercato di declinare le mie riflessioni sull'ambiente, a partire anche appunto dalla prospettiva ecologista che mi ha condizionato, che è quella legata al pensiero appunto di Alexander Langer. Però ho cercato di collegarla direttamente appunto con, diciamo, una specie di ecologia applicata, insomma. Nel senso che il mio, la mia, la mia grande sempre preoccupazione è stata quella di trovare una coerenza, come scriveva sempre anche Langer, tra quello che noi proclamiamo e quello che riusciamo a compiere. Perché effettivamente qui sta anche la misura della nostra capacità sostanzialmente di incidere. E quando, e ringrazio quindi assolutamente Piero Vivilacqua per avermi invitato, e sono onorata io e spero di essere all'altezza appunto dei relatori che mi hanno anche preceduto, e quello che mi colpisce sempre molto profondamente è che per arrivare anche a una declinazione del problema dei cambiamenti climatici dell'economia circolare, che sono i due elementi focus, insomma, che ho voluto indicare per questo incontro, dicevo, quello che mi preoccupa sempre è capire poi qual è il ruolo nostro e soprattutto qual è il ruolo appunto delle città, perché noi viviamo nelle città, viviamo nei luoghi, ed è in quei luoghi che noi possiamo davvero, se vogliamo, costruire la conversione economica e logica. a mio avviso, direi, come vedete, sono tre gli elementi che mi sembrava fondamentali su cui focalizzarsi, da un lato i cambiamenti climatici, come li percepiamo, non circolare, che secondo me è una grande chiave di lettura per passare da un modello di economia lineare e industriale, mi sembra fondamentale occuparci appunto di questi aspetti, perché nella politica soprattutto non c'è assolutamente, a mio avviso, la percezione, sia nei partiti politici, sia in coloro che ci rappresentano, della gravità della situazione che noi stiamo vivendo e d'altra parte, quando io avevo già preparato le slide dopo l'indicazione appunto della tempistica da parte di Piero Bevilac, è uscito questo rapporto della Commissione dell'Ecopernicus Climate Change Service che sostanzialmente conferma la gravità della situazione perché dice appunto che nel 2022 la concentrazione media di CO2 è di 417 parti per milione, sconvolge un po' perché diciamo ma forse è un'esagerazione, no non è un'esagerazione, questi dati preoccupanti riguardano sia il biossido di carbonio, la CO2, sia il metano, anche per il metano la denuncia appunto dell'osservatorio cioè ha indicato che il livello appunto di parti per miliardo del metano è di 1894 parti per miliardo, cioè concentrazioni le più alte degli ultimi 800 mila anni e questi sono naturalmente i principali e responsabili del cambiamento climatico. a questo si assomma anche il fatto che noi non stiamo rallentando le emissioni ed è per quello che io poi mi soffermo sulle città perché la mia convinzione profonda è che la conversione ecologica passa attraverso un ruolo centrale delle città o noi cambiamo appunto nelle città il nostro modo di vivere, di gestire, di amministrare il bene comune oppure forse davvero la società ecologica non si realizzera mai. quindi questo per me è un punto fondamentale. In tutti i casi noi anche questo dato è molto grave che non stiamo in Italia rallentando le emissioni anzi dopo appunto il periodo di lockdown e dopo diciamo una situazione che sembrava più positiva c'è stato un aumento a causa anche della guerra e dei fenomeni che adesso non sto ad indicare del 6% secondo le stime di Enea. Le cause sono l'aumento molto forte di consumo di petrolio e carbone e quindi ancora oggi in Italia le fonti fossili rappresentano il 77% dell'energia primaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che la politica non ha capito che noi assumendo anche quelle decisioni che soprattutto nelle conferenze, nella conferenza di Glasgow sono diventate vincolanti per chi le sottoscrive dovremmo invece avere un percorso chiaro per uscire appunto dall'utilizzo delle fonti fossili. Purtroppo invece il carbone ha sostituito tra l'altro la produzione idroelettrica che è stata ridotta e si è ridotta nel 2022 del 38%, questo anche a causa della siccità sempre collegata con i cambiamenti climatici. E quindi diciamo che quello che io qui avevo scritto qualche giorno prima e cioè sostanzialmente che in tutto il mondo i rapporti dell'IPCC di fatto basavano le loro conclusioni su delle misure scientifiche che sono appunto le misure e osservazioni risalienti a secoli precedenti, gli indici paleoclimatici, i modelli climatologici, la comprensione dei funzionamenti, dei processi appunto del clima, di fatto hanno portato a quell'aumento che viene denunciato anche oggi appunto dal Copernicus Climate Change Service e che è confermato da questi dati che sono appunto, questi sono slide dell'Agenzia Europea e che danno come riscaldamento globale quel famoso un grado... molti fenomeni che tutti ormai noi conosciamo che sono il ritiro dei ghiacciai senza precedenti, le condizioni dell'atmosfera, ad esempio l'area del mar glaciale artico in estate è ora del 40% meno estesa rispetto agli anni 80. Se voi vedete in questa slide è molto chiaro un dato e cioè che addirittura quest'aumento della temperatura degli ocellani equivale all'energia di 3 miliardi di bombe a tono, cioè stiamo parlando di bombe di Hiroshima, se non c'è la minima consapevolezza. e naturalmente anche il livello del mare si è appunto è aumentato di circa 2 centimetri e alcuni gas agiscono appunto con quella funzione tale per cui si crea il riscaldamento riscaldamento climatico. Le conseguenze cosa sono? Le conseguenze sono ondate di calore, precipitazioni intense, incendi boschivi, perdita di fertilità dei suoli, cioè ci sono una serie di conseguenze di cui noi non ci assumiamo assolutamente la responsabilità. Solo quando noi raggiungeremo e saremo in grado appunto di smettere di aggiungere anidride carbonica all'atmosfera, probabilmente le temperature si stabilizzeranno e appunto l'obiettivo di contenimento dell'aumento che era anche l'obiettivo sottoscritto alla conferenza di Glasgow, poi dopo esaminiamo anche cosa è successo a Charmel Shake, ma direi che il punto centrale è stato dopo Parigi, i cui accordi durante questa importante conferenza, io le ho seguite quasi tutte da quella di Rio de Janeiro del 1992 fino a Glasgow, non siamo andati a Charmel Shake per una ragione diciamo di politica rispetto alla vicenda Regeni, però invece diciamo rispetto a quello che abbiamo visto sia a Parigi dove c'era questo grande spazio di giovani che si chiamava appunto generazione del clima, che sono coloro appunto le nuove generazioni che pagheranno il prezzo della nostra, come chiamava Langer, insolvenza fraudolenta del nostro non fare i conti con l'oste, del nostro non misurare appunto la nostra pressione nei confronti della natura e le conseguenze che questo ha sia per la natura che per le persone che per appunto le future generazioni. Le riduzioni delle emissioni di gas sera, metano e protossido d'azoto naturalmente miglioreranno anche il tema della qualità dell'aria che è anche un altro grande tema che riguarda le città. Tra l'altro ecco io ho messo questa slide, l'ho voluta mettere perché secondo me è molto interessante, poi magari non ci si può soffermare poi con calma, ma il cambiamento climatico ha comportato un aumento tra l'altro proprio delle temperature delle singole città in modo assolutamente significativo. Ma noi invece da dove veniamo? Veniamo appunto, io la prima conferenza a cui ho partecipato è stata quella di Rio de Janeiro del 1992 in cui eravamo entusiasti di incontrare queste migliaia di persone della società civile perché c'erano circa 20.000 esponenti di società civile di tutto il mondo e per noi questo principio era un principio fondamentale, cioè lo sviluppo sostenibile, il concetto che poi anche Alexander Langer ha messo in discussione e io dopo un accendolo voglio fare perché secondo me questo è un tema molto importante perché lui diceva sul treno dello sviluppo sostenibile due terzi dell'umanità e i più poveri non potranno salirci. Comunque lo sviluppo sostenibile doveva essere tale da soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future appunto di vivere in equilibrio con la natura e aveva come obiettivo quello di tutelare gli ecosistemi e di promuovere lo sviluppo appunto socio-economico. Purtroppo invece la situazione che stiamo vivendo ha presente dei problemi gravissimi. Io li sfioro perché sono tutti problemi che poi ci ritroviamo declinati anche nella concretezza appunto della nostra vita quotidiana ma il problema dell'acqua e il problema della desertificazione che noi viviamo anche nelle nostre città. Il problema del fatto che non abbiamo consapevolezza che determinate politiche come la politica e qui è stata in realtà è il vero, la vera, la vera, la vera. La questione è legata al fatto che anche la foresta massonica non è più in grado appunto di svolgere questa funzione di polmone del mondo che forse lo possono svolgere in questo momento. ma che naturalmente nella foresta massonica non è più in grado appunto di svolgere in grado appunto ma che naturalmente nella foresta massonica non è più in grado appunto di svolgere 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 in grado appunto. di svolgere in grado appunto di svolgere in grado appunto. Ah perfetto ok. Allora adesso ricondivido lo schermo perché è sparito e torniamo indietro. Allora andiamo avanti perdonatemi ma è un problema è che abbiamo un problema di dicevo la foresta massonica non è più appunto il polmone del mondo lo è invece lo è invece lo sono gli oceani e quindi dobbiamo riporre le nostre speranze appunto sugli oceani. Ma per arrivare poi alla concretezza delle mie riflessioni però non volevo non citare il testo i limiti dello sviluppo è forse qui che si è interrotta anche la linea partendo appunto da questo testo di Aurelio Peccei fondamentale che indicava come fondamentali cinque fattori che erano la crescita dell'industrializzazione, l'aumento della popolazione, l'insufficienza di cibo e il deterioramento dell'ambiente per inquinamento. Che cosa che cosa ha portato questa a che cosa ha portato questa situazione? Al fatto che senza una visione globale del pianeta e senza diciamo il riequilibrio di questi elementi i rischi e le conseguenze disastrose sono quelle che oggi noi vediamo e viviamo in modo anche molto 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 chiaro. La questione dei limiti che era quella che ha sempre posto appunto Alexander Langer che noi dobbiamo fare i conti con i limiti e con il necessario rallentamento nei confronti appunto del nostro rapporto appunto con la terra è tutto questo ha delle conseguenze gravissime appunto sull'ecosistema complessivo e chi è che contribuisce di più appunto alla produzione di CO2, i combustivi di fossili e ad esempio la produzione di cemento insieme nel 2019 hanno prodotto 35.332 milioni di tonnellate di CO2 e allora quali sono le azioni da mettere in campo? Dunque ho fatto solo una piccola riflessione sul fatto che nel periodo con lo smart working c'è stata appunto una riduzione molto visibile anche proprio dai satelliti in particolare nella pianura padana della riduzione appunto di CO2. In questo caso ad esempio uno studio che è stato fatto da diverse università ha indicato come lo smart working abbia apportato l'11% di riduzione di CO2 e noi secondo gli impegni di Glasgow dovremmo ridurre annualmente la produzione di CO2 dell'8%. E allora quali sono le nostre risposte pratiche concrete? Allora le nostre risposte sono da un lato appunto l'economia circolare e cerchiamo di capire come io almeno vedo dal mio punto di vista l'economia circolare e cioè un concetto molto semplice dobbiamo basare appunto la nostra gestione di tutte appunto le attività che sono legate ai flussi sia di materia organica che di materia tecnica sul concetto di recupero di materia. questo è il concetto fondamentale che invece viene sistematicamente eluso appunto dalla dalla politica. Un altro aspetto su cui si è importante agire anche nelle città riguarda naturalmente la piantumazione degli alberi e poi ancora la necessità che le città diano il loro contributo attraverso i piani per l'energia sostenibile per il clima attraverso una serie di azioni che sono ormai classiche cioè l'efficienza energetica, il risparmio energetico, l'utilizzo di fonti rinnovabili e la mobilità sostenibile. E poi naturalmente i comportamenti sostenibili che possono contribuire a ridurre la CO2 ad esempio un esempio che vi faccio poi concretamente è il piano proprio per la riduzione della produzione dei rifiuti. Parentesi, noi oggi abbiamo questo PNRR che era nato per la necessità e con la necessità di far fronte ai cambiamenti climatici. In realtà molti di questi piani molto probabilmente non rispettano i criteri indicati appunto nella direttiva di NSH cioè non arrecare un danno significativo. Non mi voglio soffermare sul PNRR perché a mio avviso andrebbe creato da subito un osservatorio sul PNRR per capire appunto quali sono gli obiettivi del PNRR e soprattutto i progetti che sono ormai e che saranno finanziati se rispettano appunto a questa fondamentale principio del non arrecare danno. Dicevo le risposte sono di due tipi appunto. Cioè la prima risposta è quella a mio avviso dell'economia circolare che prevede che si passi da un'economia lineare che crea valore perso, produco, utilizzo e scarto ad un'economia circolare che crea valore aggiunto basato appunto sul recupero di materia. Produco, utilizzo e recupero. E questo naturalmente fa bene all'ambiente, fa bene al lavoro. E questo vale per, dicevo, tutti e due i flussi. I flussi biologici che sono quelli che possono essere reinmessi nella natura e che naturalmente consentono di far fronte ai problemi di desertificazione, di impoverimento dei suoli. E poi ci sono naturalmente i flussi tecnici che sono invece quelli che possono essere reinmessi nel ciclo produttivo in una nuova economia circolare appunto basata sul recupero di materia. Io vi farò l'esempio appunto per quanto riguarda l'economia circolare del piano che, del piano industriale che avevamo diciamo elaborato per Roma e che in parte abbiamo anche realizzato e vi mostrerò alcune slide che lo evidenziano per far vedere come di fatto l'economia circolare si può creare in termini anche molto concreti. Però vorrei fare un'ulteriore premessa, mi avviso, assolutamente necessaria e cioè noi partiamo da una situazione in cui sostanzialmente... come? Ah vabbè, mi sentite? Sì, sì, scusa c'è qualcuno da lasciare il microfono aperto. Sì, ti sentiamo. Non c'è problema. No, dicevo, noi partiamo da una situazione disastrosa nel nostro paese e questo lo vorrei dire perché quando parliamo poi di rifiuti parliamo anche appunto di modelli industriali, per quello ritengo che il passaggio dall'economia lineare che crea valore perso, che è quello del modello industriale e capitalistico, a un'economia circolare che crea invece valore aggiunto, è il superamento veramente di un modello di un modello epocale. Che cosa ha creato questo modello di economia lineare? Noi abbiamo fatto questa ricerca con la professoressa Maria Rosa Ronzoni, docente di urbanistica all'Università di Bergamo, l'abbiamo presentata tra l'altro proprio alla conferenza generazione climà, alla conferenza di Parigi, in cui abbiamo evidenziato, soprattutto poi la professoressa ha fatto un grande lavoro sui danni ambientali, che naturalmente non rispettano minimamente gli obiettivi della politica ambientale dell'Unione Europea, cioè salvaguardia e tutela del miglioramento ambientale, protezione della salute e uso accorto e razionale delle risorse naturali. Mi sembra che sia tutto l'opposto a quello che si è realizzato. E su cosa si basava la politica ambientale dell'Unione? Sul principio di precauzione, sul principio dell'azione preventiva e della correzione del danno ambientale alla fonte e sul principio di chi inquina paga. Poi oggi siamo più a chi paga inquina, ma insomma comunque con tutte le successive normative. Però andiamo avanti appunto già nel rapporto Brundtland del 1987, che a me fu raccontato da Grazia Francescato, che per prima appunto sanci proprio che il deterioramento ambientale era un fenomeno che era lesivo di interessi fondamentali dell'umanità, che non potevamo non tenerne conto. E d'altra parte chi ha seguito le vicende di Boppal, io ho invitato appunto la giudice indiana che ha risarcito, che ha che ha diciamo valutato in modo assolutamente negativo il risarcimento dei danni alle migliaia di morti appunto di Boppal, che sono stati risarciti con 10 dollari, o la vicenda anche di Chernobyl, sono naturalmente delle vicende che aprono proprio il campo a una grande riflessione su come appunto il deterioramento ambientale abbia delle conseguenze gravissime. Naturalmente conseguenze che sono sull'inquinamento e su cui la comunità internazionale comunque si è interrogata nel tempo, anche arrivando a delle conclusioni anche interessanti. Ma io volevo arrivare soprattutto appunto al fatto che anche nella nostra Costituzione il principio più fondamentale del diritto ambientale, la responsabilità condivisa, la prevenzione, la precauzione, sono temi centrali ma che non vengono e che tra l'altro rispetto di questi principi fa parte del diritto positivo, quindi fa parte del diritto vigente. Ecco però che cosa abbiamo noi in Italia? Abbiamo questo, il libro di Gian Paolo Schiesaro, Avvocato dello Stato, che cosa ha riconosciuto? Ha elencato una serie di disarzi che sono quelli riconosciuti in sede giudiziaria, quindi anche se solo come ipotesi di accusa, però riconosciuti in sede giudiziaria e sono tutti gravissimi. Adesso io li cito, ma molti di voi magari si saranno impegnati proprio contro questo tipo di situazioni gravissime che hanno toccato il nostro territorio, ma che però sono passate sopra la nostra vita senza lasciare segni veri. la nube tossica fa... l'acna di cencio, tutti questi veleni appunto sepolti a discarica appunto di pianura, cioè una cosa gravissima, veramente scalia che fece appunto, faceva parte della commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti, dice che appunto la politica naturalmente ignora tutto quello che è successo e bisognerebbe andarsi a rileggere comunque le relazioni delle commissioni che si sono occupati appunto dei rifiuti. Per non parlare di Arenzano, per chi sta in Liguria, ha un significato gravissimo questo evento della Aven del 1991, il DDT nel lago a Pieve Vergonte, a Porto Marghera, la fuga di ammoniaca dallo stabilimento petrolchimico di Porto Marghera, 900 kg di ammoniaca del 4 maggio 99, 3000 kg di cloruro di vinile monomero dallo stabilimento petrolchimico sempre di Porto Marghera del 99, cioè casi veramente gravissimi che hanno segnato il territorio, per non parlare delle frane, come la frana di Sarno, oggi ci mettiamo dentro anche naturalmente Ischia, l'avvelenamento di Cromo Esavalente, Falda Tezze sul Brent, dove tra l'altro i lavoratori che si erano esposti per denunciare la situazione gravissima appunto nel loro contesto di lavoro in realtà sono stati condannati, appunto mi sembra di vedere quello che sta succedendo oggi per alcuni slogan, dice che cosa sono alcuni slogan in confronto alle decine di lavoratori assassinati dal Cromo ed altri cancerogeni usati in tutti questi anni appunto alla Trigone Galvanica e quanti cittadini sono morti, insomma questa non è giustizia. La discarica di Pitelli per chi conosce la Spezia è una cosa gravissima, tra l'altro dove anche si nascondono situazioni gravissime legate appunto alla gestione illecita dei rifiuti. Bus nel Tirino, appuntamento di due milioni di tonnellate di rifiuti tossici, due milioni di tonnellate e il disastro ambientale dell'inquinamento del fiume Lambro per chi è nelle zone milanesi. Il petrolchimico appunto è il grande incendio priolo, sento che ogni tanto ne parlano ancora alcuni cittadini ma mi sembra che si ignori sostanzialmente queste situazioni così gravi. Per non parlare appunto del, penso a Genova, io l'ho vissuta appunto anche in prima persona all'alluvione del 2010, situazioni gravissime che continuano purtroppo nonostante noi ci impegniamo appunto a far fronte al problema del discesso idrogeologico eccetera. E allora che cosa non è economia circolare? Non è economia circolare la discarica di Malagrotta che è la più grande discarica appunto europea in cui sono stati ficcati tutti i rifiuti non solo di Roma e del Lazio ma anche rifiuti da tutta Italia. E questa è una ferita enorme al territorio di Roma e al territorio, ma al territorio italiano. È una ferita gravissima sulla quale noi abbiamo cercato anche di dare una risposta appunto di economia circolare. Non so se si vedono le immagini? Sì, sì, si vedono bene. Ecco, questa immagine la metto perché queste sono le discariche dove vanno a finire i nostri RAE. Quando io facevo l'assessore a Roma un giorno il comandante di maggio mi ha chiamato perché ogni tanto esplodevano questi luoghi appunto dove ci sono queste specie di autocarrosserie insomma e noi ne abbiamo chiusi circa 60 e un po' anche penso per vendetta li facevano esplodere e li incendiavano. Un giorno mi ha chiamato il comandante e mi ha detto venga a vedere cosa c'è dietro perché dietro l'incendio abbiamo scoperto che c'erano una serie di appunto rifiuti elettrici e elettronici come questi che vedete qui da frigoriferia a tutto il resto che erano già in partenza appunto per le strade dell'illegalità. Questo è un documentario che ha tradotto la professoressa Ranzoni fatto appunto in Germania dove un giornalista tedesco, un giornalista della BBC fa praticamente il giro all'incontrario dei rifiuti, va nelle discariche e va a vedere l'inventario dei rifiuti che sono lì per capire da dove vengono e scopre naturalmente che molti vengono dall'Europa, vengono anche dall'America, da enti anche e la cosa grave cos'è? Che questi rifiuti elettrici ed elettronici vanno a finire appunto in questi luoghi dove i bambini, in particolare i bambini, li bruciano per estrarre naturalmente le materie che possono essere di utilizzo e anche significative e questa è una cosa per me è una ferita, è una ferita veramente gravissima perché se qui vanno a finire i nostri rifiuti, considerate che noi produciamo circa 12 kg di RAE cioè rifiuti elettrici ed elettronici, di apparecchi elettrici ed elettronici e di questi 12 kg, 4 kg e mezzo circa, adesso il dato ultimo non l'ho verificato comunque più o meno siamo lì, vengono riciclati, il resto va a finire nelle strade dell'illegalità e va in questi luoghi e noi quindi andiamo a creare queste situazioni a mio avviso appunto gravissime qui vanno a finire appunto i nostri, questo vedete si vede l'inventario dell'Oens Mister College comunque c'è anche l'agenzia LEPA americana, insomma ci sono dei comuni del Belgio dei comuni, ecco si ritrovano purtroppo rifiuti che vengono dalle nostre città e allora qual è stata la nostra risposta? La nostra risposta è creiamo invece un modello di economia circolare che è un sistema pensato per potersi rigenerare da solo e quindi sia rispetto ai flussi biologici, cioè materiali organici che possono essere reintegrati nella biosfera sia rispetto a quelli tecnici destinati a essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera ecco tutto questo noi la prima cosa che dobbiamo fare è non dobbiamo più chiamare i rifiuti ma dobbiamo chiamarli, noi abbiamo detto, materiali post-consumo e così voglio fare questo modello del nostro piano che peraltro a mio avviso è ancora vigente perché questa delibera della giunta capitolina 47 del marzo 2017 è ancora in vigore prevedeva appunto il piano di riduzione delle gestioni dei materiali post-consumo che aveva degli obiettivi particolari, cioè innanzitutto i tre pilastri appunto della normativa europea quindi la riduzione dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre di 170.000 tonnellate la produzione di rifiuti l'incremento della percentuale di raccolta differenziata del 70% e la realizzazione di impiantistica sostenibile in realtà noi abbiamo realizzato in due municipi su 500.000 abitanti quindi sul sesto e sul decimo municipio abbiamo realizzato anche in alcuni casi anche più del 70% di raccolta differenziata e anche i dati di quest'anno che io ho pubblicato mostrano come il porta a porta che noi abbiamo portato in 500 su 500.000 abitanti è come se avessimo fatto Firenze e qualche altra città ha dato e continua a dare dei risultati positivi questo vuol dire che si può fare noi avevamo fatto anche un piano per diciamo proseguire in tutti i municipi purtroppo come sapete appunto la questione si è arenata ma a mio avviso il progetto è un progetto assolutamente valido di economia circolare e poi avevamo diciamo progettato 14 impianti di economia circolare di cui due io ne vado molto orgogliosa sono due impianti appunto di compostaggio che tratteranno circa 120.000 tonnellate di rifiuti organici il che significa un guadagno anno di 20 milioni di euro perché ovviamente quando si valorizzano i rifiuti e si raccolgono i rifiuti in questo caso organici diminuiscono i costi di raccolta diminuiscono naturalmente i costi di smaltimento cioè 200 euro a tonnellata pensate 120.000 tonnellate all'anno in meno ecco noi avevamo previsto 14 impianti 15 impianti di economia circolare che valorizzavano tutte le frazioni dei materiali appunto post consumo la prima azione però che abbiamo messo in campo riguardava la prevenzione della produzione dei rifiuti e qui richiamo un punto sempre anche di quell'articoletto che vi ho dato di Alexander Langer dove dice dobbiamo innanzitutto partire anche dai nostri stili di vita dobbiamo appunto evitare questo scambio predatorio applicare dei limiti al nostro modo appunto anche di vivere e allora questo lo si può fare anche nella programmazione di una città perché noi avevamo calcolato in modo scientifico che la realizzazione di questi 12 progetti di cui uno ve ne faccio vedere perché in parte avevamo iniziato anche a realizzarlo potevano portare alla riduzione del 16,5% appunto di diminuzione della produzione dei rifiuti con naturalmente delle azioni che devono essere monitorate perché il grande limite a mio avviso anche lì della politica è che propone le azioni poi purtroppo un po' perché ci sono i cambi di amministrazione ma non esiste più il monitoraggio su quello che deve essere realizzato su come è realizzato e sull'efficacia appunto delle azioni che possono essere anche modificate nel momento in cui non sono più efficaci noi ad esempio avevamo fatto questo progetto molto interessante che riguardava un importante contributo alla gestione delle eccedenze alimentari con i beni invenduti alimentari dei mercati rionali che andavano a finire appunto da un lato alle onlus alle persone in difficoltà e dall'altro appunto alla fondazione Bioparco qui si vede quello che si è raccolto con meno rifiuti da spaltire quindi con un risparmio tra l'altro che consentiva appunto quanto meno di occupare le persone con i costi ripagati con i risparmi sul mancato ritiro e il conferimento dell'organico se questo si realizzasse per ogni mercato appunto dell'organico si produrrebbe una riduzione delle tonnellate appunto di produzione di rifiuti ma anche l'investimento conseguente visto che c'è un recupero economico molto forte perché anche in questo caso riduciamo il costo di smaltimento di 200 euro a tonnellata se noi recuperiamo un tot di tonnellate abbiamo un risparmio economico che può essere investito per appunto nelle persone che si occupano poi di gestire questi processi e questi percorsi tra l'altro questo lo dico anche se forse non sarebbe necessario adesso che stiamo parlando di economia circolare però nella mappatura delle utenze perché anche questi cambiamenti hanno bisogno di un approccio secondo me molto scientifico molto rigoroso e cioè bisogna fare prima un'indagine di tutte le utenze strade per strade con tutte le caratteristiche anche perché spesso purtroppo ci troviamo in situazioni soprattutto a Roma ci siamo trovati in situazioni particolari ma la mappatura delle utenze consente poi di fare una programmazione della raccolta che è atteguata alle utenze perché se io programmo la raccolta dei rifiuti per 50.000 persone ma ne ho 100.000 come succede sistematicamente a Roma è evidente che avrò sempre i rifiuti per terra Roma e non riuscirò mai a risolvere il mio problema infatti noi cosa abbiamo scoperto dalla nostra mappatura delle utenze su San Lorenzo Trastevere il municipio 6 il municipio 10 abbiamo scoperto appunto 50.000 utenze fantasma cioè che non esistono non esistono dal punto di vista della mappatura e che corrispondono a più di 125.000 abitanti è come se una città producesse rifiuti ma non è in grado di ovviamente non essendo essendo utenze fantasma il servizio non viene non viene diciamo corrisposto in modo adeguato quindi questo lavoro molto tecnico che noi avevamo fatto secondo me andrebbe proseguito in tutta la città di Roma e sarebbe anche risolutivo per per il problema dei rifiuti tra l'altro noi abbiamo anche applicato dove abbiamo iniziato i sistemi tecnologici avanzati con le etichette TAC che misurano il numero di conferimenti in modo che anche qui è un principio dell'economia circolare il cittadino che il cittadino che fa meno conferimenti di indifferenziato paga meno anche in termini appunto di tali quindi con un guadagno anche consistente avevamo poi cercato anche di realizzare un progetto molto diciamo adeguato ai contesti per cui i grandi condomini per i grandi condomini avevamo ipotizzato questo è un esempio di domus ecologica realizzata a Ostia dove appunto l'apertura è con il badge ci sono appunto i contenitori condominali eccetera l'area è video sorvegliata il risultato è che da subito abbiamo visto che addirittura in alcuni casi siamo arrivati all'82% di raccolta differenziata e soprattutto strade pulite e soprattutto materiali raccolti a Roma cesso appunto di economia circolare necessario e questi sono gli impianti che avevamo visto anche l'Ipori in Portogallo un impianto molto interessante che è stato premiato dalla Commissione Europea anche questo è un esempio concreto di come si può fare appunto un'impiantistica sostenibile un'impiantistica applicata appunto ad esempio ai RAE applicata agli oli esausti applicata ai materiali tessili sanitari applicata appunto alle fabbriche del riciclo che consentono di recuperare materiale ferrolegnoso di recuperare tutto quello che c'è appunto ancora nei nostri rifiuti e che può essere valorizzato perché come dicevi i rifiuti non sono rifiuti ma sono materiali post-consumo in una visione di economia circolare questi erano i due progetti che sono stati poi autorizzati dalla regione spero che anche se saranno anaerobici come avevamo pensato noi comunque funzioneranno per circa 120.000 tonnellate di rifiuti anni sottratti appunto a quelle vagabondare per l'Italia il compostaggio i flussi biologici hanno anche prospettive diverse e quindi ogni città poi può sviluppare il compostaggio industriale il compostaggio di comunità noi avevamo risposto a un bando della regione Lazio per 15 compostiere di comunità e che spero saranno state realizzate immagino e il compostaggio naturalmente domestico che è frutto della nostra attività individuale in più il tema della riduzione mi sentite sempre perché adesso sono un po' preoccupata che sì sì perfetto dicevo un elemento che mi interessa molto che è importantissimo come visione dell'economia circolare è quello che facemmo sia a Genova adesso faccio vedere sia appunto a Roma come progettazione c'è i centri di riciclo creativo perché i centri di riciclo creativo mostrano proprio come in realtà il bene può essere può tornare ad avere nuova vita e noi abbiamo pensato appunto un cric per ogni municipio ma se ne potrebbero realizzare molti di più ma questi cric diventano non solo luoghi tra l'altro di condivisione anche sociale luoghi dove si valorizzano i nostri materiali che così non buttiamo ma diventano anche luoghi dove si creano posti di lavoro l'esempio è Genova Palazzo Verde la fabbrica del riciclo questi ad esempio sono mobili creati e recuperati dal nulla e reinterpretati anche provenienti dalla spazzatura e reinterpretati appunto anche da dei giovani ragazzi artisti che li hanno li hanno appunto risistemati tra l'altro diventano anche oggetti di design insomma quindi sono oggetti veramente belli ecco come vedete dai rifiuti appunto possono possiamo tirar fuori materiali appunto interessanti che possono tornare dicevo ad avere nuova vita questa è la fabbrica del riciclo di Genova che è stato uno dei primi esempi appunto in Italia di di attività legati alla valorizzazione appunto anche perché poi a Genova c'è una cultura molto diffusa che dice qui non si butta niente quindi diciamo che Genova è anche è anche favorita dalla propria storia dalla propria cultura in dialetto genovese proprio si dice qua non si butta niente tra l'altro per avevamo fatto questo bellissimo rumentosauro che a Reggio Emilia potrebbe diventare appunto a Roma poteva diventare il monnessosauro che cos'è e questo l'abbiamo fatto realizzare appunto dopo un bando a un artista belga l'ha fatto con pneumatici e sta a dimostrare quanti rifiuti ogni cittadino genovese produce produceva all'epoca comunque più o meno siamo lì 570 chili anno quindi noi ogni anno produciamo 570 chili in alcune realtà anche vedevo l'altro giorno di nuovi dati dell'Emilia Romagna 650 chili di rifiuti all'anno ecco questo rumentosauro dimostra e fa vedere quanti rifiuti appunto si producono ognuno di noi produce in un anno e purtroppo appunto dicevo che questi temi sono stati anche ripresi dalla laudato sì volevo richiamare come la fragilità del pianeta l'interconnessione e l'integrazione tra ambiente sviluppo e pace il ruolo della tecnologia la responsabilità politica dei governi della comunità internazionale rispetto anche al ruolo delle Nazioni Unite e a tutte le indicazioni che ci vengono dalle grandi sfide ambientali sono stati raccolti dalla laudato sì ma continuano a mio avviso a non essere assolutamente raccolti anche dalla politica perché anche oggi se noi ci confrontiamo con questo nuovo osservatorio sull'economia circolare la considerazione che possiamo fare è che nessuno ne sa nulla che esiste in Italia un osservatorio sull'economia circolare e soprattutto non sappiamo se veramente questa sia una visione solo burocratica dirigenziale del nostro Stato e non in grado invece di incidere concretamente con delle azioni concrete nel cambiamento in quella conversione ecologica necessaria per la nostra società facevo l'esempio dei RAI perché a mio avviso noi abbiamo fatto un progetto come università che si chiamava We Models il libro l'ha citato anche prima appunto Piero Bevilacqua perché sui RAI si capisce molto bene come da 3,2 trilioni di valori di prodotti si generano 2,7 trilioni di valori di rifiuti quindi di materiali persi invece se noi ragioniamo in un'ottica di economia circolare valorizziamo appunto tutto questo patrimonio i dati che li ho dati anche prima in realtà diciamo che si producono nel mondo moltissimi rifiuti elettrici ed elettronici e purtroppo se ne recuperano molto pochi e come dicevo molti molti di questi materiali che invece potrebbero avere un effetto economico di un modello di educazione diversa che è l'educazione appunto all'economia circolare potrebbero portare appunto a una valorizzazione di questi materiali perché ogni anno si trovano 320 tonnellate d'oro 7200 di argento per un valore di 15 miliardi ma se ne recupera appunto solo il 15% ma non solo vanno a finire in quelle discariche ma poi ci sono le terre rare poi ci sono sostanze anche molto nocive appunto per la salute e per l'ambiente quando noi purtroppo vediamo che anche i nostri telefonini vengono buttati nell'indifferenziato noi non ci rendiamo conto che creiamo un gravissimo danno all'ecosistema all'ambiente alla salute delle persone questo è un fatto acclarato e comunque lo studio del nostro dipartimento della mia università di epidemiologia ambientale appunto ha fatto uno studio molto elaborato proprio sulle conseguenze gravissime per la salute di questo scorretto smaltimento di questi rifiuti e poi il grave rischio è proprio quello che dicevo prima cioè poi non abbiamo più tempo per quelle considerazioni che facevo inizialmente e che riguardano appunto le condizioni climatiche queste emissioni appunto nell'atmosfera di sostanze climalteranti hanno delle conseguenze gravissime a me questa slide mi ha sconvolto quando il professore ce la presentò perché passare appunto dal 1979 al 2020 a un livello di così diverso di spessore del ghiaccio marino è un fatto gravissimo d'altra parte anche nell'ultimo numero di internazionale leggevo due o tre giorni fa che una delle più importanti glaciologhe finlandesi credo finlandesi ha evidenziato come il più importante ghiacciaio dell'artico si sta scegliendo grazie con una rapidità incredibile e con conseguenze che saranno devastanti in maniera spaventosa per non parlare poi del morti dovuti appunto alle polveri sottili perché noi abbiamo parlato dei morti del covid in questo periodo di covid ma non parliamo dei 400 mila morti all'anno dovuti ai PM alle polveri ultrasottili PM10 e PM25 non parliamo dei 16 mila morti correlabili all'esposizione all'ozono dei decessi correlati appunto al diossido di azoto l'anomalia della temperatura globale è un dato di fatto e purtroppo queste situazioni appunto gravissime hanno delle conseguenze compreso il nostro uso di internet perché noi sappiamo che anche purtroppo l'utilizzo di internet ha un effetto significativo come impronta di CO2 dicevo parlavo della riduzione dell'artico della mappa globale della vegetazione come si sta riducendo in maniera rapidissima e soprattutto a questo punto la domanda è di fronte a questi gravi problemi che anche noi abbiamo questa era l'entrata della COP26 della Green Zone quando siamo andati appunto alla conferenza di Glasgow quali sono le risposte le risposte appunto sono un'attenta valutazione di quei progetti che sono messi in campo e che a mio avviso serviranno a poco perché non sono stati valutati attentamente dal punto di vista ambientale ma soprattutto proprio perché appunto in realtà dovevano evitare di avere delle conseguenze sulle emissioni di gas a effetto ser sull'uso sostenibile e la protezione delle risorse marine non dovevano condizionare il buono stato dei corpi idrici dovevano non arreccare danno significativo all'economia circolare noi abbiamo visto che addirittura all'inizio volevano anche finanziare appunto inceneritori che per fortuna sono rimasti fuori dalle piene da insomma le piene rr però quello a cui vorrei arrivare come valutazione finale è che quali sono le risposte delle città anche la COP27 solo per parentesi vorrei ricordare che ha diciamo si ha mantenuto l'impegno di Glasgow a contenere l'aumento della temperatura a un grado e mezzo è rimasto l'obiettivo della chiusura del 75% delle centrali a carbono ovvero 9000 centrali sostituite con solare ed eolico entro il 2030 obiettivo emissioni net zero entro il 2050 ma la mia domanda è ma come ci arriviamo se in Italia stiamo aumentando l'utilizzo del carbone sottoscriviamo questi impegni a livello quando andiamo appunto e partecipiamo a queste conferenze poi dopo concretamente cosa stiamo facendo ecco allora il contributo delle città le città naturalmente la transizione all'elettualità climatica ha l'impegno per l'efficienza energetica per le fonti rinnovabili alla decarbonizzazione dei trasporti alla economia circolare dei rifiuti all'assorbimento appunto di carbonio io vi faccio l'esempio rapidissimo di Genova e poi dopo ho fatto ho cercato di recuperare non ci senti più nulla niente la connessione finuccia montanaria è un po' ballerina aspettiamo qualche istante grazie a tutti non so se piero modo di che succede roberto è proprio disconnessa quindi credo che sia saltata la propria connessione internet di pinuccia se scusate caduta di nuovo la rete non so perché mi sentite vai sì vai perfetto scusate allora ritorno alla alle considerazioni di prima adesso se cerco cerco di tirar via questa cosa che si è infilata perché si è infilata questa roba qua scusate ma non è finito qua ecco perfetto allora dicevo di parlo molto rapidamente di quello che abbiamo cercato di fare nella città nella città appunto di di genova nella città di genova con soprattutto quei piani che hanno cercato di fare un po tutte le città italiane cioè l'unica risposta possibile per rispondere praticamente concretamente a partire dalle città è da un lato agire sull'educazione ambientale e dall'altro agire appunto sulle 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 questioni soprattutto dell'energia e genova ha cercato di darsi un una visione una visione che era fatta appunto di questi dieci punti che adesso non vi sto a evidenziare ma che voleva mettere soprattutto in evidenza la necessità di uno sguardo generale della città e per costruire la città ad una città dove si vive bene una città dove il verde fruibile una città appunto come vedete della linea verde della linea della linea blu quella del mare della linea verde che hanno poi delle conseguenze ad esempio sulla mobilità perché la linea blu significa pensare una mobilità che non è solo una mobilità appunto sostenibile attraverso il ferro ma magari anche attraverso la nave bus attraverso delle soluzioni sostenibili che proprio sulla base della visione della città eh si eh realizzano quindi una nuova visione per Genova eh con la ehm la decisione al patto dei sindaci Genova è stato uno dei primi comuni che ha aderito al patto dei sindaci e che e il cui piano realizzato dall'Agenzia regionale per la Liguria e dalla eh Università di Genova il centro il CURUI e centro di ricerca ed ecologia eh del territorio hanno cercato di mettere in campo eh cosa dice qua mi sentite sì sì perfettamente perfetto scusate ma mi diceva di riavviare il video bu e mh e dicevo Genova è una delle città che ha eh cercato di realizzare il SEAP eh in modo che il SEAP è il piano eh per l'energia sostenibile oggi è diventato piano per l'energia sostenibile per il clima che anche Roma ha approvato che la maggior parte delle città italiane hanno approvato e che eh è costituito da una serie di azioni quello di Genova sono ottanta azioni a breve medio e lungo termine azioni misurabili che hanno appunto degli obiettivi delle eh descrizioni molto specifiche dei risultati ottenibili dei tempi di attuazione degli attori coinvolti una copertura finanziaria i possibili ostacoli e indicazioni per il monitoraggio eh a partire da un dato che spesso nei comuni manca cioè se noi dobbiamo ridurre la produzione di CO2 dobbiamo capire innanzitutto quali sono i nostri consumi energetici e quali sono le emissioni di CO2 che dobbiamo ridurre perché non è che possiamo farlo così eh a vanvera dovremmo avere dei dati purtroppo molti comuni non hanno i dati e quindi partono da questi anche fanno questi progetti senza avere i dati effettivi della situazione dicevo eh la visione è fondamentale perché tutto questo si inserisce in una risposta che accanto all'economia circolare dice anche dobbiamo investire in una nuova visione una città dove si vive bene che ha nuovi metodi di governo una città creativa una città accessibile una città sostenibile una città giusta ecco eh dove l'elemento della giustizia è fondamentale e allora su tutto questo si sono individuate delle azioni e che sono quelle concrete che possono dare delle riduzioni eh consistenti e io qui ve le ho messo in modo che le vedete c'è ogni settore della che viene preso in considerazione con azioni che devono essere poi finanziate può dare un contributo vero alla riduzione delle emissioni di CO2 perché è inutile che andiamo a Glasgow a firmare degli obiettivi per ridurre e per arrivare al 2050 le emissioni zero zero se poi non siamo in grado nelle nostre città di stabilire quante quante emissioni possiamo effettivamente ridurle come lo possiamo fare con quali tempi lo possiamo fare e con quali finanziamenti lo possiamo fare e quegli esempi che io vi faccio sono quelli dell'edilizio illuminazione pubblica dei trasporti naturalmente non sto adesso a indicare tutto perché dovrei eh fare una relazione solo su quello insomma eh sulla produzione locale di di elettricità l'energia eolica il fotovoltaico l'unica cosa che vi dico è che vedete il fotovoltaico può essere messo anche appunto dove ci sono i famosi tetti appunto eh con le pietre tipiche liguri e quindi in realtà c'è anche anche soluzioni tecnologiche innovative oggi sono in grado di eh consentire delle scelte importanti dal punto di vista delle eh delle energie rinnovabili anche la partecipazione può contribuire può contribuire appunto alla riduzione della produzione di CO2 e noi l'abbiamo calcolato e questo è importantissimo attraverso l'osservatorio attraverso la consulta dell'energia attraverso le politiche ambientali il green point attraverso azioni di informazione di comunicazione e di educazione e e il totale sono appunto si arriva a quelle cinquecentotrentottomila tonnellate di CO2 risparmiate che se per ogni città noi le mettiamo insieme questa è la a mio avviso la sfida che noi dobbiamo eh intraprendere cioè dobbiamo chiedere da un lato esigere che la politica nazionale parli seriamente di riconversione industriale di passaggio dall'economia lineare all'economia circolare ma dall'altro dobbiamo anche esigere che le amministrazioni locali eh effettuino quelle scelte che nel campo dei rifiuti nel campo dell'energia portino a quei risultati che sono oggi necessari per far fronte alla sfida dei cambiamenti climatici se no sono solo belle parole e totalmente inutili e andiamo verso la catastrofe e noi avevamo messo in campo anche un sistema una metodologia appunto di indica un sistema di indicatori per il monitoraggio perché il monitoraggio attraverso appunto il cruscotto di monitoraggio che è uno strumento fondamentale per capire davvero eh che cosa stai facendo e purtroppo ecco che cosa stanno facendo oggi le città in Italia allora l'ottantacinque per cento delle città aderito al patto dei sindaci cioè a questo piano necessario il sessantanove per cento ha già redatto il PAES o il PAES che piano per energia sostenibile per il clima ma il cinquantadue per cento non ha realizzato un rapporto di monitoraggio il trentanove per cento delle città eh ha aggiornato i target per il clima al duemila e trenta ha fissato misure per raggiungerli però solo il quattro per cento ha fissato l'obiettivo della neutralità climatica al duemila e cinquanta e quasi il settanta per cento non ha ancora adottato un piano per l'adattamento al chiamamento climatico questo vedete è l'indagine eh che ho recuperato appunto eh che su un campione però molto vasto di città italiane eh dove di fatto eh l'adesione c'è ma mancano manca appunto il monitoraggio manca eh il manca come vedete c'è una grande differenza tra il nord e il sud eh i piani sono stati fatti però i piani di monitoraggio eh non sono eh attivi e quindi se non c'è il piano di monitoraggio come so se le mie azioni sono efficace se le sto realizzando se quali eh azioni anche correttive nel caso devo mettere in campo eh e così anche eh la consapevolezza appunto eh delle target necessario a livello comunale eh al duemila e trenta al duemila e cinquanta mh e quali sono le misure per raggiungerlo? Molti città ovviamente intendono fissarlo ma soltanto appunto il quattro per cento l'ha già eh fissato eh naturalmente anche rispetto al piano comunale per l'adattamento al cambiamento climatico eh con misure appunto per ridurre i rischi e ridurre le vulnerabilità soprattutto agli eventi atmosferici come quello di ischi eccetera le ondate di calore le alluvioni il sessantotto per cento ha dichiarato che non ce l'ha il trentadue per cento sì speriamo che sia anche questo monitorato quando hanno fatto un po' di esempi eh delle iniziative io ho visto che è sparito che dentro hanno messo il mio mh hanno messo appunto il mio il mio piano il mio progetto WinModels che non c'entra molto quindi eh anche quando rispondono a questi a questi a questi a queste diciamo a questi questionari poi di fatto bisogna stare anche un po' attenti eh alla al risultato e infine eh ecco anche sull'efficienza energetica ehm i programmi eh di riqualificazione sono stati degli edifici pubblici sono stati indicati eh però purtroppo eh i dati come vedete non sono eh assolutamente coerenti il settantasei per cento di città non dispone della stima della quota dei propri consumi di energia coperti da forniti rinnovabili non ha il sessanta sette per cento non ha fissato un obiettivo di sviluppo delle rinnovabili elettriche eh il novantatré virgola cinque per cento non hanno conoscenza degli impianti per la produzione di energia termica nell'ottantacinque per cento non è stato realizzato un inventario delle superfici disponibili e così via adesso non vi voglio eh diciamo eh non vi voglio così eh massacrare con questi dati ma eh pinuccia anche perché bisogna lasciare tempo agli interventi sì no e allora chiudo solo dicendo che la una delle risposte è la comunità energetica eh la comunità energetica eh eh le comunità energetiche sono eh diciamo fondamentali eh perché è la risposta sostanzialmente per ehm per per condividere l'energia e farlo in modo tale da poter dare una risposta anche in termini di eh autosufficienza ecco questa è la mia eh la mia conclusione è che rispetto appunto a queste valutazioni eh le città sono eh molto diciamo ancora possono dare un grandissimo contributo che è quello vero al cambiamento climatico ma non sono non sono eh in questo momento a mio avviso eh non hanno la capacità sufficiente di ehm realizzare le azioni e di monitorarle quindi il compito della politica dovrebbe essere quello di eh occuparsi di questo e mi fermo qua grazie pinuccia grazie allora grazie eh c'è Laura che ha chiesto di poter fare una domanda due due parlo io prego Laura prego sì intanto abbraccio pinuccia con tutto l'affetto e l'amore ci ha legato un'antica esperienza nei erbi langer poi la cosa di oggi vale conferma che non c'è buon governo se non se non governo ecologico no io ho due domande la prima contiene una perplessità sull'economia circolare che sì è una pratica di mitigazione ma forse non di trasformazione sono tutte e due riguardano il tema dei rifiuti perché insomma eh tu insisti eh e fai benissimo sul cambiamento no non dobbiamo più dire rifiuti tu dici materia consumo io direi materie per rimanere nell'ottica della natura che non produce rifiuti la natura produce materie che poi diventano altre materie se ci mettiamo nell'ottica della natura vuol dire che forse non dovremmo accanirci molto solo sullo smaltimento a valle i cattivi lo vogliono fare con gli inceneritori le discariche noi buoni con gli impianti sostenibili e il recupero ma forse dovremmo lavorare a monte sulle produzioni e 30 anni fa è stata fatta una legge sugli imballaggi che era una piccola legge che però in Germania ha battuto il 30 per cento dei rifiuti poi non se ne è parlato più adesso so che eh la commissione europea sta analizzando di nuovo questa cosa degli imballaggi le lobby però sono entrate in gioco hanno rivisto tante di queste cose stanno diciamo rendendo liquida questa legge perché è chiaro che questa legge sarebbe una legge anticapitalista una legge che abbatte appunto eh a monte eh attaccando eh i grandi interessi delle lobby produttrici di imballaggi la seconda invece è una domanda eh ho preparato oggi una scheda eh per il gruppo di lavoro sui referendum di unione popolare una delle proposte eh è l'eliminazione del segreto di stato sia sulla tracciabilità dei rifiuti sia su tutta la partita dell'energia eh locazioni individuazione dei luoghi ma informazioni eh una partita che diventa urgentissima perché dobbiamo decidere questo sito nazionale o locale questa è un'altra delle questioni dei rifiuti specie delle scorie provenienti scorie nucleari provenienti dalla Francia e che sono secretate nelle scrivanie dei vari presidenti del Consiglio. Ora ricorderai Pinuccia che questa fu una questione drammatica per noi perché i primi a mettere il segreto di Stato fumo noi cioè furono allora i Verdi col ministro Pecoraro in buona assolutamente in buona fede che eh quando introdusse i Sistri cioè il sistema della tracciabilità dei rifiuti del traffico dei rifiuti proprio per evitare infiltrazioni della mafia della criminalità pose anche sugli appalti dei rifiuti eh e in discontinuità però con quella che era una direttiva europea sulla direttiva europea sulla trasparenza pose il segreto. Ora eh questo segreto si è rivelato come eh dicevo un'arma un'arma contro le comunità che non possono più accedere né alle grandi questioni energetiche né a tutti i siti tutti i siti sostenibili e insostenibili che riguardano appunto i rifiuti. Eh sì bene avrei tante domande da farti ma queste mi sembrano particolarmente urgenti. Ti abbraccio veramente e ti ringrazio per questa lezione. E rispondo subito o facciamo facciamo tutte e tre? Facciamo sì tutte e tre e poi dopo rispondi fino alla fine. Fino Ippolito? Ecco qui. Abbasso anche la mano. Eh sì esprimo anche io qualche preoccupazione sull'uso del termine economia circolare. Attualmente ehm le stime che si fanno per l'economia italiana che meno del venti per cento delle materie prime che si chientano per la per la produzione di nuovi oggetti proviene dal recupero di materiale. A livello europeo le cose stanno anche peggio. Siamo sotto al 12 per cento anche perché si sa l'Italia è un paese povero di materie prime quindi probabilmente eh fa più sforzi nel tentativo di recuperare della materia. A livello mondo i numeri sono davvero ridicoli. Ma il la preoccupazione è questa è che se lasciamo passare l'idea che sia possibile raggiungere il recupero totale della materia cioè alimentare il processo produttivo di nuovi prodotti attraverso il riuso e il recupero della materia. Questo è un comporta eh cosa che naturalmente ha dei limiti fisici che non non devo ricordare cioè questo è impossibile da porta due conseguenze che sono entrambi negative secondo me presso l'opinione pubblica. La prima è che non ci si possa fare a meno in assoluto e per sempre delle discariche degli inceneritori o termogiorizzatori perché questo non è possibile. Anche quando eh molto spesso si scambia la differenziazione con il recupero di materia. Dalla materia differenziata a recupero c'è uno scarto molto considerevole. Peraltro in questi processi come in qualunque altro processo industriale la riconversione comporta inquinamento, emissione di energia carbonica. Quindi neanche questo passaggio è indolore dal punto di vista climatico. E l'altro aspetto che mi sta ancora forse più a cuore è che in generale la convinzione che il pianeta possa eh raggiungere raggiungere un equilibrio del quale consuma tutto ciò che produce in modo circolare e in modo quindi illimitato perché il cerchio è una figura geometrica chiusa e quindi avrebbe più bisogno di consumare materie prime fresche o nuove risorse. E questo è chiaramente falso. Noi dobbiamo invece essere consapevoli dei limiti che il pianeta ha in sé come materie prime e come possibilità quindi di sviluppo della 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 nostra produzione. Ecco perché ho molti dubbi sull'uso di economia circolare preferirei ma non so quale naturalmente che se ne trovasse uno che certo ci inducesse a essere a prevenire tutto con i rifiuti che poi riutilizzasse nel maggior una maggiore quantità possibile i rifiuti prodotti ma non che lasciasse intendere che c'è un modello di sviluppo economico per il quale possiamo farla franca con l'ambiente. Grazie. Grazie a te Manuele Negro e poi Piero. Grazie a tutte e tutti grazie per l'ampia diversificata carrellata su tutte o la maggior parte delle tecniche che si possono mettere in opera. Devo dire che condivido anch'io in maniera diversa ma essenzialmente le perplessità sia di Laura che mi ha preceduto che di Pino in merito al fatto che sia sull'economia circolare che anche su altre su altre proposte che sono state avanzate in questa carrellata perché mi paiono più dei palliativi che delle soluzioni risolutive. Adesso cercando di mettere un termine scientifico a quello fisico a quello che ha detto Pino in realtà il sistema economico crea entropia e comunque comunque questo è una cosa che inevitabilmente continuerà fino a quanto si continuerà a produrre. Allora sicuramente sono tutte proposte condivisibili però non risolvono a fondo il problema che non è solo il problema ambientale, il problema di sopravvivenza della specie umana sulla terra. Chiamiamolo a cosa col suo nome e la non distruzione e alterazione dei parametri fisici tali da creare le condizioni di invivibilità per grandi fasce della popolazione. Allora secondo me ci sono due convitati di pietra che non sono stati toccati o sono stati soltanto toccati di striscio da sera e che invece dovrebbero essere presi in considerazione sia in un contesto più di analisi tecno scientifica del problema ambientale e sia anche nel quadro di un programma politico che è quello che in parte è stato costruito e si sta costruendo per l'unione popolare. Allora una prima eh un primo aspetto che so che è in viso a molti perché ha mille definizioni possibili è quello della decrescita. Allora lasciamo stare il fatto che sia felice o infelice eh che sia proposto da un gruppo di di lavoro un gruppo di invece un altro ma il punto essenziale è la decrescita perché eh trent'anni fa eh Erlich ha proposto una formula eh estremamente semplice che correla l'inquinamento ovvero l'impatto sulla sulla biosfera lo correla alla ricchezza alla popolazione a un fattore tecnologico. Eh se la ricchezza che è un proxy se si vuole del eh della disponibilità di materiali, risorse, eh aggeggi, gadget, materiali, materiali di consumo non viene intaccata l'impatto comunque aumenterà a meno di non passare a decimare nel senso ridurre a un decimo la popolazione mondiale ma questo è un altro discorso che si potrebbe fare. Però eh fin tanto che non si affronta il problema della disponibilità di merci che continua a aumentare nella nostra società opulente occidentale e aumenta eh in maniera esponenziale in altre società che non hanno ancora percorso eh fortuna fortunatamente per tutti il percorso che abbiamo percorso noi che abbiamo percorso noi non se ne verrà fuori quindi eh io uso soltanto il capitolo il termine decrescita finché non si affronta in maniera seria e ponderata questo questo problema non se non si era fuori. Il secondo eh tema, poi mi fermo qua, che è indirettamente, anzi direttamente legato all'inquinamento e alla decrescita e che non è stato affrontato se non distriscio, il problema del capitalismo. Il capitalismo per funzionare ha bisogno di produrre entropia. Allora se non si si attacca una buona volta a che cos'è il significato del capitalismo e il rapporto tra capitalismo e ambiente. Capitalismo e produzione. Eh che cos'è la produzione utile? Perché noi possiamo parlare di economia circolare eh in maniera assolutamente perfetta raggiungendo dei percentuali elevatissimi. Certamente non il cento per cento eh ma raggiungendo percentuali elevatissimi. Ma se parliamo di riciclare, di rimettere in un percorso di circolarità della spazzatura inutile, stiamo perdendo il nostro tempo. Allora io penso che si debba affrontare anche in maniera seria. È chiaro, è un discorso che è molto difficile affrontare in sede nazionale, ancora peggio in sede europea, ma affrontare che cos'è il capitalismo e che cosa fa il capitalismo per la pressione, la produzione di diciamo pure spazzatura, spazzatura come primo uso, prima produzione e qual è la produzione che deve essere privilegiata e qual è quella che deve essere cancellata o esattamente limitata, non ne avremo poi. Questi sono due suggerimenti che penso sarebbe bene sviluppare sia per la nostra riflessione interna che per una proposta politica. Grazie. Grazie a te Emanuele. Piero Bevilacqua, vi chiedo di essere più concisi possibile chiaramente perché vogliamo dare a Pinnuccia la possibilità di rispondere a queste prime. Eh Pinnuccia? Eh volentieri perché poi sono rispondere non credo di essere in grado di rispondere ma perché sono problemi credo molto complessi e quindi posso dire la mia valutazione. La mia valutazione è questa che rispetto a quello che diceva Laura ehm che che comprendo profondamente naturalmente io sono assolutamente d'accordo io naturalmente forse ho omesso di dire una cosa che occupando soprattutto di rifiuti urbani eh noi dobbiamo ragionare che i rifiuti appunto sono rifiuti urbani e rifiuti industriali ehm questo questo perché è molto importante perché quando io devo gestire una città e devo occuparmi dei rifiuti urbani io devo occuparmi di un milione seicentomila tonnellate faccio l'esempio di Roma all'anno realmente il mio problema è di capire come ridurre la produzione di rifiuti a monte come è possibile la differenziare eh diciamo andare nella direzione materia e come organizzare è anche possibile ehm e io naturalmente su questo lo 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 anticipo ma lo lo è ovvio io sono contrarissima comunque all'utilizzo di discariche e di inceneritori e penso che eh la soluzione invece si possa trovare sempre in questo eh modello eh quello che tu però ponevi era il problema che è stato toccato da una direttiva europea importantissima che è la responsabilità estesa del produttore e quindi il modello sostanzialmente eh che dovrebbe cambiare in termini di ehm appunto l'esempio è classico è quello dell'automobile oggi eh in base alla direttiva europea eh tutti i componenti dell'automobile devono essere componenti di ma appunto eh che che riutilizzano eh e recuperano materi in modo eh abbastanza significativo quindi a mio avviso eh la la risposta al tuo problema sta che ehm nel momento in cui ci si occupa dal punto di vista ad esempio del ministero dell'ambiente dei problemi generali dei rifiuti e soprattutto di quei rifiuti industriali che sono milioni e milioni di tonnellate di cui peraltro non abbiamo neanche la cognizione allora lì sì che dobbiamo incominciare a porre alle industrie il problema eh della ehm sostenibilità eh delle delle materie che vengono utilizzate per creare i prodotti e qui sta il vero tema ma lì ci dovrebbero essere degli obblighi ad esempio l'esempio che io facevo con Piero raccontando una vicenda anche diciamo che riguarda un'attività che conosco bene eh da scarti dell'agricoltura si possono produrre imballaggi sostenibili e allora perché non esiste una eh diciamo eh obbligo anche normativo che consente di creare appunto ehm eh prodotti da in quel caso brevettati quindi chiari da 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 scarti di agricoltura quindi ribadisco i flussi sono i flussi biologici che secondo me invece possono essere reimmessi nell'atmosfera quindi tutti gli organici e invece che sono sicuramente problematici però sempre cercando di rispondere al problema che poneva anche successivamente ehm eh l'altro intervento io su 100 kg di rifiuti ho 70 io ho 100 kg di rifiuti e 70 sono carta verito organico secco e questo materiale sono materie poi dentro quei 30 kg che restano ci sono ancora che cosa ci sono? Metalli, ferro, materiali, fellorignosi, c'è tutto materiale recuperabile e perché allora devo andare a creare questi disastri che sono le discariche o addirittura gli inceneritori quando posso invece favorire un modello industriale che mi valorizza questo reale e questa è la 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 riflessione naturalmente i sistri è fallito miseramente e sono d'accordissimo con te sulla questione del segreto mh che è una questione invece centrale perché anzi quello che ho mostrato mostra come appunto non conoscendo il percorso dei rifiuti soprattutto dei rifiuti pericolosi eh tutto questo ha delle conseguenze eh gravissime e rispetto appunto eh dicevo alla alla critica al concetto di economia circolare io penso che noi dobbiamo eh orientarci a mh a capire davvero eh quali sono le strade anche dal punto di vista del capitalismo e del modello industriale superando anzi io penso che la risposta dell'economia circolare sia un superamento proprio del modello capitalistico dove appunto eh il tema centrale delle delle risorse e che 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 vengono sfruttate poi eh di fatto eh gestite in modo assolutamente ehm eh illogico e con conseguenze gravissime eh rispetto appunto a a a alla al modello a questo modello appunto eh che denunciava anche il club di Roma io credo che dobbiamo eh ragionare proprio sui flussi cioè se noi ragioniamo sui flussi ragioniamo tenendo però ovviamente separato il tema della gestione dei rifiuti quando ci troviamo concretamente a doverli gestire nelle città e eh l'altro tema grande che è quello dei rifiuti industriali che sono proprio l'espressione sbagliato a mio avviso assolutamente sbagliato poi non eh sul tema appunto del capitalismo credo e della e della decrescita io ho sempre inteso la decrescita come riduzione eh riduzione del nostro impatto cioè stili di vita che riducano il nostro impatto bene posso intervenire intanto un grande grazie non l'ho detto prima a Mariuccia per questa vasta eh ricognizione su temi complessi che lei ha svolto con grande competenza e grande padronanza e anche per gli esempi concreti di interventi sulla realtà che di solito eh diciamo in queste nostre lezioni mancano allora eh io intervengo eh nel merito eh del problema posto da da Laura eh ripresa poi ehm da Emanuele da da Pini Polito ehm a proposito del del capitalismo ehm tenendo presente che c'è una dimensione politica e anche quotidiana se volete di lotta di riduzione dei danni eccetera è un livello teorico culturale che deve essere più ampio e e su cui mi trovate d'accordo allora io come storico eh vi ricordo che il problema dei rifiuti ha meno di un secolo di vita nelle società industriali perché prima non esisteva allora nasce nasce con la planet obsolescence negli Stati Uniti negli anni trenta cioè quando eh l'eccesso di produzione si scontra con eh la mentalità eh sobria eh della popolazione americana abituata a che non era abituata allo spreco e mh questa popolazione viene piegata manipolata e indotta allo spreco e naturalmente la 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 fabbrica che prima eh per esempio la Ford produceva un unico modello standard del cosiddetto modello T eccetera comincia eh eh a inventarsi no i gadget eccetera eh e a rendere eh a programmare all'obispolescenza la rottura dei pezzi che non possono essere cambiati noi oggi lo vediamo ehm si guasta un telefonino e non si trova nessuno che lo possa riparare oppure diciamo si viene indotti a comprarne uno nuovo perché perché costa perché costa poco allora eh è evidente che il capitalismo ha un bisogno esistenziale di distruggere perché è inseguita dall'eccesso della propria produzione che si scontra continuamente vecchia analisi di Marx si si scontra continuamente con i limiti di assorbimento della della domanda quindi eh è chiaro che noi dobbiamo dare dobbiamo dare una prospettiva una prospettiva anticapitalistica al nostro al nostro discorso poi possiamo usare anche il linguaggio diciamo di economia circolare se questo eh da la la sapendo che teoricamente appunto eh ci sono i problemi e le aporie che ha messo in evidenza tra l'altro non solo qui ma in un bel messaggio Pino Eppolito eh curato dall'Officina dei Saperi da da Enzo Scandurra e da Tiziana Drago e poi te lo faremo te lo faremo avere eh Pinuccio eh io voglio però approfitto per aggiungere un'informazione eh un'informazione che crede importante perché si connette al problema della pace della necessità della pace io non sapevo l'ho appreso leggendo questo bel libro di Amitav Ghosh il la 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 maledizione della noce moscata eh gli Stati Uniti si sono opposti già negli anni novanta a che eh nelle varie diciamo nelle varie coppie internazionali eh venisse eh computato il consumo dell'energia impiegata nel eh nella gestione degli armamenti nella gestione degli eserciti cioè non nella guerra intendiamoci ma nella eh manutenzione nella gestione di navi e carri armati e quindi per esercitazione porta aeree elicotteri aeree e così via e allora io ho scoperto ne ho anche scritto diciamo recentemente in un articolo pubblicato su volere alla luna ho scoperto una una rivista di studiosi americani del duemila del duemila e 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 quindi dieci anni fa eh che eh questo consumo eh diciamo di energia elettrica che quindi eh apporta eh un danno eh gigantesco diciamo alla salute alla salute del clima e questo consumo è del satan del settantacinque per cento rispetto al consumo mondiale di energia una eh una cifra gigantesca che adesso sarà salita naturalmente come possiamo immaginare allora eh voi vi rendete conto che mh la lotta per la pace è anche una lotta fondamentale decisiva vitale per per l'ambiente perché eh senza dire che mh i prodotti di scarto che vengono utilizzati sempre in questa in questa rivista eh che ho utilizzato eh di studio americani negli scarti gli scarti di per l'uso delle armi per il lavaggio dei materiali eccetera che sono tutti a base di solventi e di sostanze chimiche sono tra i più pericolosi al mondo per la salute umana e per per il suolo per l'aria e per gli animali per gli animali selvatici quindi diciamo no questo per completare il quadro noi noi non usciremo dalla dalla tragedia e dal collasso eh climatico e ambientale del pianeta eh senza senza una visione a cui educare le nuove generazioni anticapitalistica è il sistema che è finito non non coincide più con la possibilità della vita degli esseri umani e sulla terra grazie eh io ho ancora molti che chiedono di parlare Stefano Proietti Massimo De Maio e poi Enzo Scandurra chiederei con questi Elisabetta Forni scusatemi e con questo chiederei di che anche a Paola grazie non trovo la manina ah va bene grazie allora prego eh ma Stefano Proietti prima buonasera eh buonasera a tutti ehm volevo tornare sull'inizio durante il suo intervento lei aveva menzionato una parola molto importante quella della vision no? La la visione che che dovrebbero avere eh riferimento insomma agli eh agli enti locali ma credo anche a livello nazionale insomma e spesso invece è proprio questa che manca manca una visione anche insomma tutto del 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 futuro insomma di queste di queste di queste di queste città e deve essere invece il punto di partenza ehm eh fondamentale poi non è detto cioè spesso e volentieri magari la mancanza di visione una visione essa stessa quindi proprio perché eh ci si ci si limita all'ordinario al presente insomma alla al micro invece di di avere appunto una una programmazione del futuro eh due domande quindi una che riguarda la prevenzione la prevenzione è chiaro che insomma la riduzione deve essere un po' la cifra di 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 un programma politico di di sinistra poi insomma si può declinare in vari modi riduzione come direte crescita felice o o altre o altre terminologie ma e e quindi e poi deve essere essa stessa modulata secondo diversi cittadini sociali e diversi paesi alcuni dovranno necessariamente produrre di più consumare di più eh altri quelli storicamente più insomma che hanno già dato insomma dovranno invece diminuire loro produzione e consumi eh la domanda è soprattutto legata alla prevenzione secondo me è fondamentale eh l'attenzione alla prevenzione in particolare adesso proprio eh entrando in una in un aspetto specifico quel perché non si riesce mai in Italia a mettere in piedi una politica ehm del vuoto a rendere insomma credo che ci siano da anni proposte che giacciono in Parlamento insomma sul sul vuoto a rendere io ricordo quando ero bambino insomma forse ancora funzionava e e e e quella ha un impatto enorme rispetto insomma alla alla produzione di di rifiuti perché proprio perché il rifiuto migliore è quello che non si produce insomma no fondamentalmente la seconda domanda riguarda invece un po' avendo una un occhio e aprendo un po' insomma quella che è stata l'esperienza insomma di Roma che forse insomma detto fra noi probabilmente non la meritava insomma diciamo quel tipo quell'amministrazione di cui ha fatto brevemente parte e come anche altri penso a Paolo Berdini per esempio e e lei il piano di Roma insomma mh ci sono un ricercatore ambientale un consulente ambientale quindi lavoro su vari settori e mh insomma era molto incentrato sulla politica del compostaggio eh sull'impianti di compostaggio lei ha menzionato mi ha fatto piacere che insomma non c'era solo questa visione anche se poi insomma quell'amministrazione era aveva i cinque stelle insomma anche a livello nazionale ha una forte eh una forte mh preminenza sul discorso appunto del del della gestione di fiori attraverso dei rifiuti organiche attraverso compostaggio lei invece ha menzionato anche eh biodigestori quindi biogas e biometano insomma anche in Italia hanno un ruolo molto importante ecco mi fa molto piacere perché invece in alcuni ambienti soprattutto di sinistra c'è una certa io chiamerei un pochino di prevenzione anche di pregiudizio rispetto invece a questa soluzione tecnologica che invece per secondo me insomma ci lavoro da 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 quindici anni su 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 biogas e biometano secondo me potrebbero essere benissimo combinate anche perché poi naturalmente a valle del biometano del biogas c'è il famoso digestato che poi può essere ulteriormente eh compostato e quindi ulteriormente utilizzato come materia quindi mi piacerebbe un po' capire insomma il suo punto di vista perché ripeto in diversi settori spesso e volentieri vedo una c'era un certo pregiudizio rispetto a questa soluzione o alla combinazione degli stessi spesso probabilmente perché c'è anche molta disinformazione molto eh da parte di alcuni che insomma in qualche modo hanno il loro il loro tornaconto nel loro interesse personale non faccio nomi insomma però qualcuno qualcuno mi viene in mente insomma grazie grazie eh io ho un solo un vincolo alle otto e mezza a un'altra riunione e quindi vi chiedo di essere brevi perché altrimenti non riusciamo a bere tutti eh Massimo De Maio eccomi oh buonasera eh sarò brevissimo eh intanto saluto Pinuccia e la ringrazio per avermi invitato a questa questo appuntamento stasera di cui non sapevo se non attraverso eh Pinuccia grazie per anche per gli interventi che ci sono stati mi fa molto piacere eh di aver come dire percepito tra tutti gli interventi che che ci sono stati prima un po' un filo rosso insomma che che li lega eh e che è una riflessione appunto proprio sulla limitatezza delle risorse che abbiamo a disposizione e quindi anche della limitatezza di certi strumenti di cui ci stiamo cercando di dotare compresa la economia circolare. Io ehm volevo soltanto puntualizzare due cose avendo lavorato con Pinuccia a Roma ehm sono stato proprio al suo fianco nell'avventura che abbiamo avuto alla alla stessa all'avventura anche abbastanza traumatica devo dire eh all'assessorato alla sostenibilità ambientale del comune di Roma e due cose secondo me sono eh importanti da sottolineare innanzitutto eh il fatto che il piano che ha citato Pinuccia per Roma il piano rifiuti eh si chiamava significativamente piano per la riduzione e poi per la gestione dei materiali post consumo quindi eh in realtà la riduzione era proprio la il primo passo diciamo di quel eh piano eh devo essere sincero mh le eh le vicende e le emergenze in cui che abbiamo dovuto affrontare eh non ci hanno consentito di eh di come dire di di affrontare questo primo punto completamente Pinuccia ha fatto degli accendi bisognava fare molto di più eh ma non c'è stato proprio il il tempo ehm oltretutto mi fa sempre piacere quando qualcuno ci cita il rapporto eh limits to the grow ricordiamolo che eh è stato tradotto i limiti al sviluppo in italiano ma i limiti alla crescita eh che nel duemilaventidue ha compiuto cinquant'anni mi fa sempre piacere perché eh ciò eh come dire ehm fa trasparire che c'è una una visione una cultura dietro a quello che si fa ora Pinuccia eh per come l'ho conosciuta per come eh l'ho apprezzata è una eh donna estremamente eh pratica e concreta eh in due anni veramente abbia fatto un lavoro enorme a Roma ehm e forse nel suo intervento Pinuccia poi dimmi se mi sbaglio eh forse eh trasparse eh si è percepito poco o quella che era la visione eh politica di chi eh poi ha messo in pratica eh quelle azioni in un libro che abbiamo fatto al termine della nostra esperienza eh a me mi è toccato un capitolo introduttivo dove ho cercato proprio di raccontare come in realtà intorno a Pinuccia in quell'assessorato si era raccolto un gruppo di persone che innanzitutto condivideva una visione del mondo in realtà venivamo anche da esperienze da percorsi diversi alcuni di noi non si conoscevano neanche fra di loro prima di lavorare con Pinuccia eh però siamo stati capati come si dice in in Abruzzo siamo stati presi eh in giro per l'Italia e messi insieme avevamo tutti quanti la stessa visione che vi assicuro è molto vicina a quello che ho sentito eh stasera cioè tutti eh avevamo io per esempio per dirvi sono stato con Maurizio Parallà parlante tra i fondatori il momento della decrescita felice in Italia Pinuccia è stata avuta eh credo sia stata l'unica assessore in Italia ad avere una delega alla decrescita forse al comune di Genova eh insomma quindi eh insomma avevamo tutti una visione e questo per dire e concludo eh qui Pinuccia mh dimmi dimmi la tua eh se sei d'accordo eh che innanzitutto c'è bisogno come dire di un veramente di un cambiamento prima che tecnico e tecnologico di ordine proprio antropologico cioè noi abbiamo bisogno io apprezzo sempre tantissimo l'amica Grazia Francescato quando dice non ci abbiamo bisogno di transizione ecologica ma di conversione ecologica cioè praticamente di un cambiamento molto più profondo. Scusate Maio però guarda che poi non abbiamo più tempo di far parlare tanto. Sì 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 mi fermo qui eh e quindi ecco l'accento che volevo mettere proprio su questo aspetto qui cioè sull'aspetto della visione eh che c'è dietro a questi strumenti e quindi poi anche l'economia circolare per sicuro può avere può essere utilizzata in un modo positivo se c'è un gruppo di persone che c'è la visione giusta. Grazie. Grazie eh Enzo? Enzo deve attivare il microfono. Ecco ringrazio anch'io Pinuccia per la passione con cui ha parlato di queste esperienze che molti di noi conoscono insomma forse sono state le esperienze più avanzate in Italia ecco ehm però condivido anche molto le perplessità sull'economia circolare eh di Spino Ippolito e altri ehm e sarò telegrafico visto che non c'è più tempo. Insomma eh l'inceneritore quello che è quello che eh passa sotto il nome di termovalorizzatore che non valorizza proprio niente e l'inceneritore è non soltanto è il frutto voglio dire di un pensiero riduzionista cioè che è poi un'ideologia del capitalismo cioè trovare quella manovella eh che che fa girare il mondo insomma quel sistema semplice semplice diciamo quel quel modo semplice quel modo eh riduzionista appunto di risolvere i problemi. Allora io credo Giorgesco Reagan che era un bioeconomista eh diceva semplicemente che eh l'unica legge che che regola la biosfera è quella della entropia. Se ne è parlato si è sussurrato appunto eh di questo di questa cosa in questo in questo oggi eh e bisogna fare i conti con questo termine cioè con l'aumento di entropia la quale legge non vale soltanto in fisica ma eh vale per tutto il sistema vivente. Io credo che eh affrontare i problemi soltanto con un occhio eh rivolto alla tecnica sia un sistema eh non non eh efficace eh anche se voglio dire le la situazione in cui siamo oggi è drammatica e sarebbe che sarebbe già tanto se si se si affrontassero appunto i problemi con da punto di vista tecnico ma credo come ha detto anche Piero che mh questo che il problema dei rifiuti è come dire è proprio la la parte malata di questo sistema di questo sistema capitalistico insomma e quindi bisogna aggredire il problema proprio della produzione di che cosa produciamo per chi produciamo eh eccetera eccetera ecco questo è semplicemente una avrei voluto parlare di altre cose ma voglio dire non c'è tempo e quindi mi scuso per la per la brevità dell'argomento. Grazie. Elisabetta. Anch'io mi limito a oltre a ringraziare per questa occasione molto importante a presentare una una questione che si riallaccia perfettamente a quello che ai commenti che sono stati fatti finora eh a commento della di questo importante intervento eh di Pinuccia eh che ringrazio per per quello che ci ha è riuscito a sintetizzarci. Io credo che sia veramente in ballo qui anche il ruolo che noi eh con eh con 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 le iniziative come queste no? E anche per la nostra collocazione politica siamo tenuti a svolgere rispetto ad una diciamo ad una presa di di consapevolezza da parte della popolazione eh di quali sono le conseguenze irrecuperabili dei propri comportamenti. Qui entra in ballo la questione sociologica, antropologica. Io sono sociologa e quindi ho una particolare sensibilità per questo aspetto ma credo che e sarei curiosa appunto di sapere da Pinuccia che cosa ne pensa di questo e qual è stata la sua esperienza in questo senso se non non possano esistere diciamo eh alcuni punti diciamo più sensibili eh con i quali avvicinare la popolazione e chiedere alla popolazione un cambiamento di visione e anche di comportamenti. Per esempio un tema che lei ha ha affrontato che è quello dei rifiuti alimentari pone a mio avviso un problema ancora più grande, enorme che è quello del del tipo di produzione no? Alimentare, di quelle che sono i nostri stili di consumo alimentari eh di quelli che sono le conseguenze anche per la nostra salute. La la questione della dell'inquinamento delle città noi sappiamo che dipende in larghissima misura dalla questione degli allevamenti intensivi di animali che sono che a sua volta è legata alla alla questione del del delle nostre abitudini di consumo no? Di carne eh che sono totalmente fuori da ogni da ogni logica diciamo eh di sostenibilità e anche eh sappiamo che quali sono le conseguenze per la salute delle persone soprattutto le più fragili. Io mi sono occupata molto e mi occupo molto di infanzia e degli effetti che questo gli stili di vita urbani ma anche alimentari hanno sulla salute dei bambini e che cosa questo implica in termini anche di costi sociali e di mille altre cose. Allora Pinuccia che cosa eh quali sono eh a a tuo avviso no? Da questo punto di vista i punti forti su cui possiamo provare anche a costruire no? A far crescere una sensibilità pubblica su su questi aspetti e eh quali sono come dire un po' i punti di forza e di debolezza invece che ci troviamo a dover gestire no? Rispetto a queste problematiche e quindi come possiamo anche sviluppare una comunicazione che sia più efficace per riuscire ad avere dalla nostra parte la maggior parte possibile di persone insomma. Grazie. Grazie. Eh Paola? Eh buonasera eh grazie e voglio ringraziare in particolare Pinuccia Pinuccia Montarari sono Paola Badessi eh Zero West Lazio. Pinuccia ricorderà che abbiamo avuto un bel trascorso quando lei era assessore al Comune di Roma. Eh oggi più che mai dico Roma ha perso una grande occasione. Ha perso un assessore che comunque veramente aveva proprio nel DNA l'impostazione dell'economia circolare l'aveva messo in pratica perché aveva potuto farlo in città più piccole e meno problematiche di Roma sicuramente ma comunque eh cioè lo sento e confermo quello che dico adesso avendola sentita e nell'approfondimento noi andiamo avanti nel nonno municipio sapete che abbiamo il problema e degli dell'inceneritore e abbiamo il problema di tre discariche e in più quello dei biodigestori mi mi dispiace non sono d'accordo con ehm l'intervento precedente sui biodigestori comunque va bene insomma e mi fermo qui e dico peccato perché veramente abbiamo perso una buona occasione stiamo facendo un bel lavoro al lavoro insieme però purtroppo quando c'è la sintonia quando le cose vanno bene e qualcosa deve succedere deve deve succedere per per rompere l'armonia perché evidentemente abbiamo pistato i piedi a qualcuno sia noi che che la pinuccia voglio dunque lo aggiungo una cosa non 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 me la ricordo eh vabbè comunque mi fermo qui perché così diamo spazio anche la possibilità di concludere e grazie a voi che state organizzando questi questi bei seminari grazie a te eh adesso do la parola per le conclusioni a Pinuccia e poi magari Piero ci saluta invitandoci alla prossima appuntamento prego Pinuccia bene beh le riflessioni che avete toccato sono tantissime significative eh vabbè quello che ha detto Piero lo lo condivido come analisi di fondo e penso che eh modificare proprio il modello industriale ehm e la critica che tu facevi appunto a mh a questa caduta poi del capitalismo eh che proprio nel nel modello della gestione dei rifiuti esprime mh delle valenze assolutamente eh negative rispetto anche a una visione più globale io credo che sia cioè io credo che sia che sia molto importante e anche se mantengo eh la convinzione che mh eh l'economia circolare è una mh parziale forse però risposta eh proprio al problema eh del del complessivo del 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 confronto col problema dei limiti del delle risorse quindi mh non lo so io penso che su questo dovremmo ancora studiare e mh e riflettere ehm perché è vero che non si parla appunto di flussi nel nel nell'analisi del club di Roma ma io ritengo che eh questo problema con questo problema dei flussi noi dobbiamo assolutamente fare i conti in modo molto concreto e quindi è vicino a quello che richiedeva eh Stefano Proietti eh quindi assolutamente sì la visione è necessaria anzi nella politica spesso manca la visione di di quale città vogliamo in quale città vogliamo andare a vivere in quale anche stato cioè in quale in quali condizioni vogliamo costruire appunto la nostra vita e anche il benessere soprattutto delle delle popolazioni poi più fragili perché il tema grosso è questo e mh e rispetto al tema che lui poneva della prevenzione e noi ci avevamo provato come osservatorio rifiuti a mettere in campo una politica del del vuoto a rendere con il professore Antonio Cavaliere avevamo proprio fatto un progetto e alla fine il risultato è stato che è stato eliminato l'osservatorio con un decreto quindi eh avevamo proprio iniziato un percorso secondo me molto importante che avrebbe dato un risultato anche normativo significativo sul vuoto a rendere siamo stati proprio eh improvvisamente eh eliminati come osservatorio nazionale rifiuti e rispetto agli impianti di compostaggio eh ringrazio Paola colgo l'occasione per ringraziare Paola io però su questo ho una visione abbastanza diciamo eh diversificata nel senso che ad esempio avevo portato eh i quindici assessori dei municipi non so chi c'era forse se lo ricorda Massimo sicuramente eh li abbiamo portati a Pinerolo eh dove c'è questo impianto anche questo premiato dalla Commissione europea per eh appunto la biodigestione anaerobica che funziona molto bene che diciamo supera anche tutte quelle critiche che eh rispetto al problema del della biodigestione adesso non sto a richiamare che vengono fatte in termini appunto eh anche diciamo sanitarie ecco quindi eh le soluzioni ci sono sono tecniche si possono assolutamente eh trovare io quindi penso che su questa strada bisogna assolutamente proseguire sì Massimo la visione sulla decrescita noi l'abbiamo sempre avuta e soprattutto eh diciamo che noi partivamo proprio da una critica del modello eh capitalistico e consumistico soprattutto questo modello che di fatto eh crea eh delle delle situazioni di profonda ingiustizia a livello globale e mondiale il famoso discorso che sul treno dello sviluppo sostenibile noi criticavamo il concetto di sviluppo sostenibile proprio perché è un concetto che si fonda su un modello capitalistico che sfrutta una parte del mondo eh per poi eh l'abbiamo visto anche poi concretamente eh con delle conseguenze eh gravissime eh però l'applicazione della decrescita è molto difficile a parte il fatto che io per far passare che a Genova ero assessora alla decrescita credo di essere stata circa quattro ore e mezza in giunta a spiegare perché volevo eh perché tutti mi dicevano tu sei matta tu c'è noi dobbiamo crescere tu non dobbiamo decrescere e quindi per dire io ero assessora alla decrescita eh significava lì abbiamo fatto appunto almeno il piano di riduzione dei rifiuti che tra l'altro trovate che è un piano fatto molto bene perché anche quello di Genova eh da delle azioni molto concrete che ognuno può fare e qui mi collego con un altro aspetto che è stato eh colto molto interessante e antropologico da Elisabetta Forni e cioè il problema appunto dei comportamenti dei modelli di consumo e delle abitudini io credo che eh questo forse sia anche il primo punto da affrontare un cambiamento di culture di 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 approccio appunto del nostro modo eh di vivere e questo è è una questione complessa eh Langer diceva la società sostenibile non esisterà se non sarà socialmente desiderabile eh però eh il tema vero è che ehm eh la desiderabilità eh di di questi aspetti in genere viene colta dalle persone solo quando eh ne vivono gli elementi appunto di crisi le malattie eh le conseguenze gravi sul piano personale e e e quindi però questo processo che in primo luogo è un processo eh culturale secondo me è fondamentale ed è fondamentale proprio per ehm assumere comportamenti che vadano nella direzione eh della conversione ecologica e noi l'abbiamo fatto ad esempio anche attraverso lo strumento della partecipazione dei Living Lab e secondo me questi Living Lab erano proprio momenti dove insieme ci si confrontava concretamente sulle idee si cambiava e insieme si veniva fuori appunto una nuova una nuova realtà una condivisione e poi i temi che 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 lei ha toccato sono importantissimi come questo che riguarda appunto ehm eh la 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 l'agricoltura intensiva agli allevamenti intensivi eh l'utilizzo di pesticidi io ho organizzato ad esempio una simulazione del Tribunale Internazionale dell'Ambiente eh con i contadini della della Romagna assieme al magistrato Postiglione facemmo una una sezione simulata del Tribunale Internazionale dell'Ambiente per invitare i contadini che gli agricoltori insomma che erano tra l'altro anche agricoltori importanti della Romagna a evitare l'utilizzo di pesticidi perché avevamo avuto invece eh proprio notizie di tante persone che morivano a causa dell'utilizzo dei pesticidi però devo dire che è stato difficilissimo eh diciamo anche solo in una simulazione far comprendere come eh un un modo nuovo di fare agricoltura un modo nuovo di eh diciamo gestire le risorse debba essere eh messo in campo eh l'ultimo punto eh vabbè ehm le perplessità di scandurre appunto sull'economia circolare mi 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 interessano cioè nel senso che mh per me è uno stimolo ad approfondire eh magari l'utilizzo anche di un termine che può essere ambiguo in realtà viene da da una da una cultura anche forse eh di un certo tipo il concetto no di economia circolare la fondazione Ellen MacArthur quindi sappiamo ecco da da dove nasce però ecco io eh inviterei a mh accoglierne però veramente le dimensioni di rivoluzione di cambiamento che questo modello comporta davvero a livello eh anche eh rispetto alle tematiche che avete riguardo alle produzioni industriali perché dovrebbero essere completamente rivoluzionate appunto le produzioni industriali dopodiché le analisi però sul modello appunto eh così diciamo più generale ehm insomma io sono sono sempre per ehm così eh eh fare mettere in campo delle azioni come diceva Langer di semina eh di semina eh in quel che in questo caso verde legata all'ambiente tenendo conto però della gravità della situazione in cui siamo che non è assolutamente ribadisco e lo ritorno a dire secondo me la riconversione dell'economia eh una riconversione economica sociale e ambientale eh è la premessa per eh affrontare seriamente il cambiamento climatico se non faremo questo eh eh non non credo che credo che veramente sarà molto difficile mettere in campo dei piani di adattamento e resilienza eh come 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 si suol dire e un altro tema importante è quello della democrazia ecologica perché secondo me è solo la democrazia ecologica che ci consente di di mettere in campo questa forte eh conversione anche ecologica cioè attraverso dei processi democratici e partecipativi. Grazie Pinuccia eh do la parola a Piero ringrazio innanzitutto anche tutti voi che avete partecipato, avete posto le questioni eh credo che questo sia un lavoro importante, per costruire una coscienza anche collettiva e una proposta politica adeguata diciamo al tema perché è vero che insomma è il capitalismo eh ai secoli contati ma a noi il pianeta o la nostra vita sul pianeta ne ha ai giorni contati e quindi forse trovare delle soluzioni eh nel frattempo eh mi sembrerebbe una cosa saggia da fare. Piero? Sì eh grazie di nuovo a Pinuccia a tutti voi che avete partecipato al dibattito grazie a Roberto che rende possibile questa iniziativa eh inevitabilmente bisogna eh avere un trovare un punto di equilibrio tra un orizzonte teorico che è quello anticapitalistico e poi le necessarie mediazioni di linguaggio di lotta politica per trasformare con la necessaria lentezza ahimè eh la cultura la cultura del dei cittadini e portarli eh su posizioni diciamo ecologicamente compatibili. Ehm quello che voglio dire è che testimonianza della riuscita di questa serata e la voglia di continuare a parlare a discutere che rimane tutti noi eh necessariamente dobbiamo chiudere e io vi ricordo il prossimo appuntamento che il c'è un errore nel calendario ho scritto eh giovedì diciotto diciotto gennaio in realtà è mercoledì diciotto gennaio avremo la lezione del professor Domenico De Massi sul tema dalla società industriale alla società postindustriale. Allora vi do appuntamento a mercoledì e naturalmente vi ricorderò l'appuntamento ehm con con le mie solite eh ripetute mail e con l'aiuto sempre di Roberto Morea. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie anche per la pazienza. Ciao. Ciao. Buonasera grazie. Vi ricordo che questa come tutte le altre lezioni potete ritrovarle sul sito di Transform Italia e quindi ancora grazie a tutti voi e buona buona serata. Arrivederci. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.